Il castello di Udine è uno dei principali monumenti della città ed è situato in cima ad un colle nel centro storico a 138 metri sul livello del mare. È sede dei musei civici che comprendono una pinacoteca, il museo archeologico e numismatico, il museo del risorgimento, la galleria dei disegni e delle stampe, il museo friulano della fotografia. L'origine del colle del castello, un significativo rilievo al centro della pianura fiulana, era ritenuta fino a poco tempo fa dovuta all'accumulo dei detriti nel corso dei secoli. C'è però una leggenda che si tramanda da secoli sulla sua origine. Si narra che quando Attila nel 452 saccheggiò Aquileia, al tempo una delle più grandi città dell'impero romano, per godersi lo spettacolo da Udine ordinò ai suoi soldati di costruirli un'altura. Ciò fu fatto riempendo di terra gli elmi di ogni soldato, che buttata tutta in uno spiazzo al centro della cittadella, diede origine al colle che oggi domina la città. Recenti studi archeologici hanno dimostrato l'origine artificiale del colle, anche se molto più antica di quanto la leggenda supponga. Secondo questi studi, infatti, il colle è stato realizzato in età preromana, fra 3.500 e 3.000 anni fa, nell'età del bronzo. La prima notizia documentata della presenza di un edificio sul colle è del 1983, anno in cui il Castrum, una fortificazione militare, venne donato all'imperatore Ottone II al patriarca di Aquileia, Rodoaldo. L'edificio odierno sorge al posto di una fortezza costruita dagli stessi patriarchi di Aquileia, quindi, e distrutta dal terremoto nel 1511. La costruzione della struttura oggi visibile ha avuto inizio nel 1517. I lavori durarono oltre 50 anni. Di Giovanni Daudine sono le rifiniture esterne e le decorazioni del Salone del Parlamento. Nel Salone del Parlamento si riuniva il Consiglio della Patria del Friuli, uno dei primi esempi di Parlamento al mondo, durato fino all'occupazione napoleonica del 1797. Il Castello è oggi la sede dei civici musei, come ho detto, che comprendono una pinacoteca, il Museo archeologico e numismatico, il Museo del Risorgimento, la Galleria dei disegni e delle stampe, il Museo Friulano della fotografia, una fototeca con oltre 150.000 immagini e una biblioteca a carattere universitario con oltre 30.000 volumi.